avevo appena preso possesso della mia camera d'albergo una specie di stanzino tra due tramezzi foderati di carta che lasciavano passare ogni più lieve rumore cominciavo a riporre nell'armadio a specchio vestiti e biancheria quando aperto il cassetto del mobile gli scorsi dentro un quaderno di carta arrotolato lo spiegai lo aprì e ne lessi il titolo i miei venticinque giorni era il diario che un bagnante il predecessore dell'occupazione della mia cameretta aveva dimenticato nel momento di andare via gli appunti che vi si leggevano possono avere qualche interesse per le persone sagge e sane che non lasciano mai la loro abitazione ed è per esse appunto che qui le trascrivo senza cambiare nulla a prima vista non è per niente allegro questo paese dove mi trovo a trascorrere venticinque giorni per curarmi fegato e stomaco e dimagrire un po i venticinque giorni di un bagnante somigliano molto ai ventotto di un militare della riserva pieni di diurni servizi e di fatica per oggi è ancora niente di straordinario da registrare mi sono sistemato ho fatto conoscenza coi luoghi e col medico chatel guyon è tutta qui un ruscello dove scorre dell'acqua giallastra fra parecchie collinette su cui sorgono il casino alcune case e cruci di pietra sulla riva del ruscello in fondo alla valletta si scorge un edificio quadrato circondato da un giardinetto lo stabilimento dei bagni cioè intorno a cui vagano persone dall'aspetto triste e ammalati un gran silenzio fregna nei viali ombrosi perché questa non è già una stazione di piacere ma una vera stazione di salute dove ci si cura con perfetta convinzione e a quanto pare si guarisce alcuni competenti anzi affermano che le fonti minerali vi compiono prodigi tuttavia nessun ex voto si vede appeso nell'ufficio del cassiere ogni tanto un signore o una signora si avvicinano ad un chiosco coperto di ardesie nel quale ci sono una donna di fisionomia mite e sorridente e dell'acqua che bolla in una vasca di cemento neppure una parola viene scambiata tra l'ammalato e la custode che gli porge un piccolo bicchiere contenente la linfa minacciosa e trasparente nella quale tremolano alcune bollicine d'aria egli beve e si allontana poi con passo grave per riprendere sotto gli alberi la passeggiata interrotta non si ode alcun rumore nel piccolo parco nessun alito di vento scuote le foglie né alcuna voce turba il totale silenzio cosicché si potrebbe scrivere all'entrata del paese qui non si ride più ci si cura coloro che si arrischiano a parlare sembrano dei muti che aprono la bocca come per simulare dei suoni tale è il loro timore di lasciarsi sfuggire la voce nell'albergo uguale silenzio vi si pranza seri e solenni come gente per bene che non ha nulla da dirsi i modi subito rivelano la perfetta educazione mentre i volti riflettono la convinzione di una superiorità le prove effettive della quale sarebbero forse per alcuni assai difficili da dare alle due salgo al cosiddetto casino capanna di legno situata sulla vetta di un monticello sul quale ci si arrampiche per sentieri scoscesi dall'alto però si gode una magnifica vista chateau guillon si trova in una valletta angusta proprio tra il monte e il piano perciò io scorgo a sinistra le prime grandi ondulazioni dei monti di alvernia boscosi su cui di continuo spiccano enormi macchie grigiastre ossia la loro ossatura lavica perché qui ci troviamo ai piedi di vulcani spenti a destra dalla stretta spaccatura della valletta mi appare una pianura infinita come il mare avvolta ad una nebbia azzurra che lascia indovinare appena i villaggi e le ville i campi biondeggianti delle spighe mature i verdi prati ombreggiati dai meli è l'alimage immensa e pianeggiante sempre coperta di un lieve velo di vapori venuta la sera scrivo dopo aver prensato da solo queste righe presso la finestra aperta dalla quale mi arriva lontano l'eco dell'orchestrina dello stabilimento che suona alcune arie come un uccellino matto che canta da solo in un deserto di tanto in tanto un cane abbaia fa bene davvero questa calma solenne buona serata 16 luglio ho fatto un bagno poi una doccia ho bevuto tre bicchieri d'acqua e tra l'uno e l'altro ho camminato per un quarto d'ora lungo i viali del parco e per trenta minuti dopo l'ultimo così ho incominciato i miei venticinque giorni di cura 17 luglio notate quelle già tre donnine misteriose che fanno bagni e pasti in comune 18 luglio nulla 19 luglio 20 luglio 20 luglio in un'incantevole valletta boscosa che si spinge sino al monastero di saint-soucy questo paese è delizioso sebbene triste ma tranquillo calmo tutto verde si incontrano sui sentieri alpestri certi carri stretti carichi di fieno trascinati da due buoi lenti e da questi nelle discese trattenuti con gran sforzo delle loro teste aggiogate guida gli animali un uomo col capo coperto da un nero e ampio cappello unito di una sottile bacchetta con la quale li tocca sul fianco o sulla fronte e spesso con un solo gesto energico li ferma d'improvviso quando il calico troppo pesante li farebbe precipitare lungo le più ripide discese l'aria è buona in queste vallette dove quando il caldo è eccessivo la polvere è impregnata di un lieve e vago odore di vaniglia e di stalla perché le vacche passano sui rapidi sentieri in così gran numero da lasciare ovunque qualcosa di esse e tale odore è un profumo mentre mandato da altri animali sarebbe insopportabile puzza 21 luglio escursione nella valletta d'un val gola racchiusa tra due superbe rupi ai piedi del monte e nella quale scorre un ruscello in mezzo a rocce ammucchiate giunto nel fondo di quel burrone sentii delle voci di donna e scorsi subito dopo le due signore misteriose dell'albergo che chiacchieravano sedute sopra un masso sembrandomi l'occasione opportuna mi presentai senza esitazione i preliminari furono bene accolti facciamo insieme ritorno parlando di parigi dove sembravano conoscere molte persone che anch'io conosco chi sono le rivedrò domani non c'è niente di più interessante di tali incontri 22 luglio giornata passata quasi interamente con le due sconosciute molto belle davvero bruna l'una l'altra bionda e vedove a quanto affermano hmmm ho proposto loro di condurle domani a Roya e hanno accettato in verità Châtel Gouillon è meno triste di quanto mi era sembrato 23 luglio giornata trascorsa a Roya che è un guazzabuglio d'alberghi in fondo a una valle alle porte di Clermont-Ferrand molta gente vasto parco pieno di moto stupende vedute dal pui de dom che si affaccia all'estremità di una prospettiva di piccole valli quasi tutti si interessano alle due signore il che mi lusinga perché l'uomo che accompagna una bella donna crede sempre di avere il capo cinto da una aureola e con maggiore ragione colui che passa in mezzo a due di esse ugualmente belle non vi è cosa più gradita né più adatta per guadagnarci la stima altrui quanto il pranzare in un ristorante molto frequentato con un'amica che è guardata da tutti andare a Bois de Boulogne trascinati da un ronzino o uscire sul boulevard in compagnia di un mostriciattolo sono le due disgrazie più umilianti che possono colpire un animo delicato che si preoccupa dell'opinione degli altri la donna fra tutti i lussi è il più raro e particolare il più costoso e invidiato quello dunque che dobbiamo esporre con maggiore premura agli sguardi cupidi del pubblico mostrando invece al vostro braccio una donna graziosa destiamo ad un tratto tutte le invidie diciamo guardate sono ricco perché possiedo questo oggetto raro e prezioso sono dotato di buon gusto perché ho saputo trovare una simile perla forse ne sono amato quando non sia da essa tradito il che mi darebbe la prova che altri al pari di me la apprezzano che vergogna invece condurre a spasso per la città una donna brutta e quante supposizioni umilianti la cosa permette in principio la si crede nostra moglie legittima perché non si può ammettere che si abbia un'amante brutta una vera moglie può benissimo essere sgraziata ma la sua bruttezza significa molte cose per noi sgradite la gente ci prende sulle prime per notai e magistrati avendo queste due professioni il monopolio delle spose deformi e ricche di dote e non è questa una pena per un uomo? e poi si da al pubblico il diritto di pensare che noi si abbia il triste coraggio e anche l'obbligo dettato dalla legge di accarezzare una faccia tanto ridicola e un corpo tanto malfatto nonché l'imprudenza di rendere madre una creatura così poco attraente ma qualcosa costituisce il colmo del ridicolo 24 luglio non le lascio più le vedovelle sconosciute ora che incomincio a conoscerle bene il paese è delizioso ottimo l'albergo eccellente la stagione e la cura per me infinitamente benefica 25 luglio passeggiata in carrozza al lago di tasenà splendida inaspettata gita deciseli per lì mentre si faceva colazione immediata partenza ossia appena lasciata la tavola dopo un lungo cammino in montagna scorgiamo ad un tratto un laghetto tutto rotondo e azzurro limpido come il cristallo cui fa da letto un antico cratere ed accinto da monti nudi da un lato e dall'altro boscosi in mezzo agli alberi biancheggia una piccola casa abitata da un uomo amabile e spiritoso un saggio che passa i propri giorni in quel luogo virgiliano e ci apre la sua ospitale di mora mi viene l'idea se facessimo un bagno grido sì ma i costumi e via è come se si fosse in un deserto e abbiamo fatto il bagno se fossi poeta oh come la narrerei l'indimenticabile visione dei due corpi giovanili e nudi nella trasparenza dell'acqua la costa è inclinata ed alta che racchiude il lago immobile lucente e tondo come una moneta d'argento il sole vi manda la luce calda la carne rosea scivola nell'onda quasi invisibile in cui le nuotatrici sembrano sospese mentre sulla sabbia del fondo si vede guizzare l'ombra dei loro movimenti 26 luglio qualcuno sembra vedere assai di mal occhio la mia veloce intimità con le due vedove c'è dunque gente così fatta da immaginare che nella vita ti si debba solo annoiare tutto quanto è lo sembra divertimento per essa diventa mancanze di tatto e di morale per essa è il dovere a norme inflessibili e mortalmente tristi con umiltà faccio loro osservare che il dovere non può essere uguale per i mormoni gli arabi i zulu i turchi gli inglesi o i francesi e che onesti se ne trovano in tutti i popoli cito un solo esempio per le donne il dovere inglese è fissato a nove anni mentre quello francese non incomincia che a quindici quanto a me del dovere ne piglio un po a ciascun popolo e ne formo un tutto paragonabile alla morale del santo re salomone 27 luglio buona notizia sono dimagrito di 620 grammi eccellente quest'acqua di chatelle guyon conduco le vedove a pranzare a rion brutta città l'anagramma della quale costituisce una piacevole vicinanza per fonti così salutare rion morì 28 luglio patatrac le due vedovelle hanno ricevuto la visita di due signori venuti a prenderla sicuramente due vedove anch'essi partono stasera me l'hanno scritto su un foglio di carta 29 luglio solo lunga escursione a piede all'antico cratere della nacher vista magnifica 30 luglio nulla faccio la cura 31 luglio idem questo paese è pieno di ruscelli infetti e io segnalo al negligente municipio l'abominevole cloaca che avvelina la strada di fronte al grande albergo e nella quale si gettano tutti gli avanzi di cucina e addirittura un focolaio di infezione colerica primo agosto nulla la cura 2 agosto meravigliosa passeggiata a chateauneuf luogo di incontro di reumatizzati dove tutti zoppicano nulla di più comico di quella popolazione in stampelle 3 agosto nulla la cura 4 agosto idem 5 agosto idem idem 6 agosto sono disperato pesatomi ho dovuto constatare di essere aumentato di 310 grammi oh ma allora 7 agosto 66 km di carrozza in montagna non svelerò il nome del paese per un sentimento di rispetto verso le donne la gita mi era stata vantata come molto bella dopo 4 ore di cammino giungo in un villaggio a meno sulla riva di un fiume in mezzo a un meraviglioso bosco di noci una foresta di tali alberi così importante non l'avevo mai vista in alvernia essa costituisce d'altronde la principale ricchezza del paese piantata com'è interamente sul territorio comunale il quale nei tempi andati non era altro che una costa nuda coperta di pruni le autorità tentarono invano di farla coltivare serviva appena a nutrire qualche pecora oggi invece è una magnifica selva per merito esclusivo delle donne e porta un nome bizzarro i peccati del signor parroco qui devo dire che le donne di montagna hanno la reputazione di essere assai più leggere di quelle di pianura ogni giovane che le incontra è tenuto a dar loro perlomeno un bacio e se non chiede di più è per loro uno sciocco a pensarci bene è il solo modo di vedere logico e naturale al momento che la donna cittadina o campagnola che sia è fatta per piacere all'uomo questi ha l'obbligo costante di provarle che essa gli piace e se si astiene da qualsiasi dimostrazione in proposito significa che la trova brutta da qualcosa equivale per lei a un'offesa non vorrei vedere per la seconda volta un uomo che non m'avesse mancato di rispetto nel nostro primo incontro reputandolo poco interessato alla mia bellezza e grazia e alla mia qualità di donna dunque i giovani del villaggio di Hicks provano spesso alle loro compaesane che le trovano di loro gradimento e il parroco non riuscendo ad impedire quelle dimostrazioni così galanti decise di utilizzarle per il bene comune perciò impose per penitenza ad ogni donna che avesse fatto un peccatuccio di piantare un albero di noce sul territorio comunale si videro da allora vagare ogni notte sul colle delle lanterne come fuochi fatui perché le colpevoli si vergognavano di eseguire la penitenza di giorno di lì a due anni non c'era più un palmo di territorio comunale spoglio di noci ed ormai si contano più di 3000 alberi superbi attorno al campanile del villaggio che suona l'avemaria in mezzo alle loro foglie questi i peccati del signor parroco poiché si cercano di continuo ai mezzi per rimboschire la Francia l'amministrazione forestale non potrebbe mettersi d'accordo con il clero per applicare il semplice provvedimento escogitato dall'umile sacerdote 8 agosto cura 9 agosto preparo la valigia e mando i saluti al grazioso paese tranquillo e silenzioso alla verde montagna alle vallette placide al deserto casino dal quale si ammira velata sempre dalla nebbia leggere e azzurrastra l'immensa pianura delle alimagne partirò domattina qui si ferma il manoscritto al quale nulla voglio aggiungere le mie impressioni sul paese non essendo state perfettamente conformi a quelle del mio predecessore e cioè per la buona ragione che io non vi ho trovato le due vedovelle grazie a tutti